Previsioni del tempo per lunedì 10 maggio su Puglia, Basilicata e Molise. Situazione generale. La pressione continuerà ad aumentare grazie al rinforzo di un mite promontorio anticiclonico. Tempo pertanto soleggiato, fatta eccezione per il transito di innocua, nuvolosità, alte e stratiforme, più compatta a fine giornata sul Molise. Temperature in aumento, venti deboli con rinforzi da sud-ovest, mari poco mossi o localmente mossi a largo. Vediamo ora le previsioni sulla Puglia. La protezione anticiclonica si opporrà ai disturbi di natura atlantica, garantendo quindi una prosecuzione del bel tempo. Sarà quindi una bella giornata di sole su tutto il territorio. Temperature in aumento, venti deboli con rinforzi da sud-ovest, mari poco mossi o localmente mossi a largo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.